E in costante aumento il numero delle famiglie che vivono in condizioni di indigenza a campo basso. Nuclei familiari costretti a rivolgersi alle associazioni che forniscono assistenze e generi alimentari, ma anche all'amministrazione comunale costretta a sua volta a fare i conti con l'esiguità dei fondi messi a disposizione per fronteggiare quella che sta diventando una vera e propria emergenza sociale. Una situazione già particolarmente complessa che è peggiorata con la pandemia prima e con l'inizio del conflitto in Ucraina poi. Il Comune tenta di fornire assistenza ma i mezzi di cui dispone sono limitati. Cresce il numero delle famiglie che si rivolgono all'assessorato, alle politiche sociali. L'intervento da parte degli enti del terzo settore è fondamentale per chi riesce in qualche modo a dare quel surplus che serve. Ovviamente è importante da parte nostra, delle istituzioni tutte, dare il minimo a quello che serve. Molto spesso purtroppo per vari problemi, deficit che conosciamo benissimo, non riusciamo. Le fasce deboli della popolazione vanno tutelate, la situazione qui a Campobasso qual è? È una situazione che purtroppo si sta rivelando sempre più complicata. Quello che è successo con il re di cittadinanza di fatto pian piano adesso sta venendo fuori. Abbiamo grandissima emergenza abitativa, ormai è un via vai a via Cavour e abbiamo grosse difficoltà a sopperire queste esigenze. Speriamo che ci possa essere nel prossimo futuro un ravvedimento da parte del governo e soprattutto maggiori risorse perché se mai non si dovesse andare in questa direzione, quantomeno trovare un'alternativa perché al momento non ce ne sono. Grazie a tutti.